Come dire in due minuti che cosa rende affascinante la ricerca storica? Non c'è niente di meglio che dare la parola a due grandi storici tra i massimi del secolo scorso. Il primo sostiene che lo storico quando fa ricerca è come l'ape. Il secondo dice invece che lo storico è come un orco. Diamo subito la parola a Lucien Fevre, nato nel 1878 e morto nel 1956, grandissimo storico dell'età moderna, autore di memorabili scritti di metodologia storica, nonché uno dei fondatori della scuola delle Annalle. Le parole che vi leggo sono notissime, sono state infinite volte lette, ripetute, eppure ripetere è sempre una profonda emozione ed è con emozione e con gioia che lo faccio. La storia, scrive Lucien Fevre, si fa con i documenti scritti, certamente, quando esistono, ma la si può fare, la si deve fare senza documenti scritti, se non ce ne sono, con tutto ciò che l'ingegnosità dello storico gli consente di utilizzare per produrre il suo miele se gli mancano i fiori consueti. Quindi con delle parole, dei segni, dei paesaggi, delle tegole, con le forme del campo e delle erbacce, con l'eclissi di luna e gli attacchi dei cavalli da tiro, con le perizie su pietre fatte dai geologi e con le analisi dei metalli fatte dai chimici. Forse che tutta una parte, la più affascinata del nostro lavoro di storici, conclude il nostro storico, non consiste proprio nello sforzo continuo di far parlare delle cose mute, di far dire loro ciò che da sole non dicono sugli uomini, sulle società che le hanno prodotte? Quello che vale per la storia, in fondo, credo, vale forse ugualmente per tutte le altre scienze, anche le ricerche dei biologi, dei chimici, dei fisici e di tutti gli altri scienziati, non mirano forse a far parlare ciò che è muto? L'altro grande storico è Mark Bloch, storico del Medioevo, dell'età moderna, dell'età contemporanea, eroe della resistenza ai nazisti, torturato e fucilato dai nazisti nel 1944. Scrisse Bloch, il buono storico è come l'orco della fiaba, laddove fiuta carne umana, la sa che è la sua preda. Allora, lo storico è un ape o è un orco? Evidentemente è entrambe le cose. Con metafore diverse, questi due immensi storici dichiarano il loro amore per la ricerca e la convinzione che la ricerca non ha confini, non deve avere abitudini consolidate, ha spazi infiniti, ha praterie davanti a sé. Quante scoperte in ogni campo del sapere sono state bloccate dalle convenzioni disciplinari, gerarchiche, questo si studia, quest'altro non vale la pena studiarlo e così per anni si bloccano magari scoperte importanti. Lo storico invece, come tutti gli scienziati, non ha confini, è un'ape ghiotta di miele o è un orco assetato di sangue. La cosa non fa differenza.